Ciao, io sono Francesco di Vaporetto Italiano e oggi ho una domanda per te. Quando parli italiano, prendi molto tempo per pensare e tradurre nella tua testa? Ti piacerebbe parlare naturalmente e sentire il tuo italiano fluire liberamente dalla tua bocca? Bene, in questo video parliamo di quattro segreti per non tradurre nella tua testa. Quattro segreti per parlare italiano naturalmente e fluentemente. Come sempre ti ricordo che puoi iscriverti al mio canale qui sotto per vedere tutti i video di Vaporetto Italiano. Ma adesso iniziamo! Come ho anticipato, in questo video parliamo di quattro segreti per non tradurre nella tua testa. Ovviamente non è qualcosa che impari in un giorno. Servono costanza, perseveranza e impegno. Ma se hai queste qualità, segui i quattro consigli fino alla fine del video. È molto importante essere paziente con te stesso. Divertiti a imparare l'italiano. Datti il tempo per imparare, sbagliare e migliorare. Ma iniziamo! Il primo segreto per non tradurre nella propria testa è essere circondati dall'italiano. Che cosa significa? Questa è una cosa di cui parlo in diversi video e che ho scritto anche nel mio ebook. Se non hai ancora scaricato il mio ebook, lo puoi fare al link che trovi qui sotto il video. Essere circondati dall'italiano significa avere spesso l'italiano con noi. Puoi ascoltare degli audio, dei podcast, degli audiolibri o dei video durante la giornata. Anche mentre cucini, mentre pulisci la casa, mentre guidi o mentre ti riposi. Anche se non ascolti attentamente, il tuo cervello familiarizza con la lingua e sarà sempre più facile parlare e capire l'italiano. Ovviamente è importante anche lo studio attivo. È importante creare una routine quotidiana di studio dell'italiano, come parlo nel mio video al link qui sopra. Ogni giorno prendi 10 o 15 minuti per studiare un po' l'italiano, per leggere qualche riga in italiano, ripassare o studiare una regola nuova. Ma questa è una routine di studio. Nel resto del tempo cerca di avere l'italiano con te molto spesso, mentre fai altre cose, come dicevo prima. Dai al tuo cervello la possibilità di assimilare e diventare amico dell'italiano. Il segreto numero due è utilizzare un dizionario monolingue. Un dizionario monolingue è un dizionario dove le parole non sono tradotte nella tua lingua. Ma quando cerchi una parola in italiano, trovi la descrizione in italiano. Il significato della parola è descritto in italiano. Questa è una meravigliosa opportunità per imparare parole nuove ed esercitare il tuo italiano. Quindi il secondo segreto è usare un dizionario monolingue. Il segreto numero tre è nominare gli oggetti e parlare di quello che fai, da solo. Penserai che sono matto, ma ti assicuro che questo metodo funziona tantissimo. Per esempio, mentre cammini per la casa, puoi nominare degli oggetti o dire delle frasi con quegli oggetti. Per esempio, quello è un cellulare. Questo è un frigorifero. Oppure puoi dire quello che fai. Adesso vado a fare la doccia. Adesso bevo un caffè. Domani vado in palestra. Questo è un ottimo modo per esercitare il tuo italiano e renderlo meccanico. Questo metodo è molto importante per esercitare il tuo italiano orale e rendere i vocaboli e le frasi automatiche nella tua testa, in modo che tu possa pronunciarle senza più parlare. Ok? Quindi durante il giorno nomina gli oggetti. Oppure crea delle frasi semplici di quello che fai. E l'ultimo consiglio, il numero quattro, è quello di usare post-it con parole o frasi in italiano. I post-it sono uno strumento meraviglioso per memorizzare e praticare l'italiano. Sul post-it puoi scrivere delle frasi. Per esempio, mi piace cucinare la sera. E attacchi il post-it in cucina. Così, ogni volta che cucini, puoi leggere e pronunciare la frase e renderla automatica nel tuo cervello. Puoi usare questa frase, per esempio, per esercitare l'espressione mi piace o per esercitare le espressioni di tempo, la sera, la mattina, il pomeriggio. Scrivi delle frasi che ti interessa apprendere e che vuoi che diventino automatiche nella tua testa. Oppure puoi creare un altro post-it con scritto Questo veramente ti aiuta a rendere il tuo italiano automatico, di renderlo familiare per il tuo cervello e finalmente un giorno potrai parlare senza pensare troppo e senza tradurre nella tua testa. Tu quale metodo usi? C'è un metodo che ti piace particolarmente di quelli che ho nominato io? Ti leggo, come sempre, nei commenti qui sotto. Ti ricordo di nuovo che puoi scaricare il mio ebook al link che trovi sotto il video qui sotto. Qui trovi 6 segreti per parlare italiano in modo naturale e fluente e anche dei consigli su dove trovare le migliori risorse per imparare o migliorare il tuo italiano. E ti ricordo anche che puoi cliccare sul bottone iscriviti qui sotto e sul simbolo della campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un video nuovo di italiano. Grazie per essere stato o per essere stata qui ancora. Ti abbraccio forte e ci vediamo al prossimo video! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!